Addio Dolce Angelo, riposa in pace, ci mancherai. Sono questi i messaggi sulla bacheca di Facebook per Serena Malorgio, 23 anni, di Avetrana, morta in un incidente stradale sull'autostrada Taranto-Bologna tra Cesena e Forlì. Con lei hanno perso la vita la suocera Liliana Palito, di 57 anni, e sono rimaste gravemente ferite le due figlie gemelle di Serena, due bimbe di soli 16 mesi. Ferito anche un uomo di 63 anni, compagno della 57enne. Era proprio lei a guidare l'auto, una Mercedes classe A, quando ha tamponato un camion dell'ANAS, fermo per delle manutenzioni. Lo schianto è avvenuto poche ore dopo la partenza da Avetrana, dove la famiglia aveva incontrato altri parenti per un matrimonio. Serena stava ritornando dal compagno, rimasto a Varese per lavoro. L'uomo ha perso moglie e madre nell'incidente e le sue figlie sono in condizioni gravi. La conducente dell'auto, il cui corpo è rimasto incastrato nelle lamiere, è morta sul colpo e pare sia rimasta addirittura decapitata, mentre la nuora è sbalzata fuori dall'abitacolo. Inutili soccorsi per le due donne del 118, che ha invece caricato in elicottero le due bambine trasportate all'ospedale Bufalini di Cesena. Sono state sbalzate fuori dalla macchina, dopo l'impatto con il camion ancora legate ai seggiolini. La prognosi per loro è riservata. Un altro elicottero ha trasportato l'uomo in condizioni gravissime all'ospedale maggiore di Bologna. Sul posto sono intervenuti quindi due elicotteri del 118 e quattro ambulanze arrivate da Cesena. Serena, giovanissima, poco prima di partire ha lasciato le sue ultime parole proprio su Facebook, parole rivolte al compagno. Tra poche ore si parte, amore, arrivo. Ma Serena e le sue suocera sono più rientrate a casa.